Avrebbero pianificato trasferte in varie regioni d'Italia, finalizzati a procurarsi veicoli poi portati a Sansevero nel Foggiano per essere immessi nel mercato delle auto e dei ricambi. 19 persone tra Foggia e provincia sono state raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare messa dal GIP del Tribunale del Capologo su richiesta della procura ed eseguita dai carabinieri di Sansevero. Rispondono di associazione a delinquere, finalizzata la commissione di rapine, furti, ricettazione e riciclaggio di autoveicoli e detenzione e spaccio di droga. 11 in carcere e 8 ai domiciliari. L'attività investigativa, spiegano gli inquirenti, ha preso il via a settembre del 2022 a seguito del sequestro di alcuni autoveicoli oggetto di furto, parte dei quali già riciclate con targa estere di nazionalità spagnola rinvenuti nei pressi di un autolavaggio di Sansevero. L'operazione ha intercettato uno dei fenomeni criminali più diffusi nel panorama della criminalità della provincia di Foggia, ovvero il mercato illecito delle autovetture e dei ricambi e delle componenti degli autoveicoli provento di furto. Le indagini, sottolineano gli investigatori, si sono concentrate anche su attività apparentemente lecite di officine meccaniche e autodemolizioni vicine ai ladri di auto, dove si svolgevano le attività di occultamento e smontaggio dei veicoli rubati, da destinare alla rivendita come pezzi di ricambio. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati e recuperati 47 veicoli integri e svariate parti meccaniche e motori di decine di auto, per un valore di oltre un milione e mezzo di euro.